Presidente, oggi viene scritta una delle pagine più tristi e oscure della storia della democrazia di questo Paese. Oggi è stata tolta al popolo la possibilità di poter decidere. Oggi è stato messo un bavaglio al popolo e al cittadino e grida vendetta, l'indifferenza e il silenzio compiacente e complice di una parte di questo Parlamento. Oggi il Partito Democratico, che ha voluto e sostenuto la legge Fornero, è complice di questa dittatura, una dittatura che ha tolto e che toglie al popolo la possibilità di vedersi riconosciuto un diritto, un diritto sacrosanto, che è il diritto di lavorare. I ladri della democrazia risponderanno al popolo sovrano. Il PD è complice di questo ladrocinio.